Che fai a Natale? Te lo dico Massimo, non ti aspettare discorsi intellettuali o cose simili. Figurati anzi sarà forse il primo Natale umano della mia vita. Saura! Ma quello chi è? È mio padre. Che cazzo fai nella vita? Mi occupo di microcredito. Ma vaffanvoa! Mamma, ma veramente aveva messa? Che me vuoi togliere pure l'ultimo schvago? Stai capito tu sta a casa, no? Sta di là, di là! Che bello, finalmente! Si comincia con la ghiandola dell'erba. Prega signorina, vieni. Il Natale è un brand allegro, non religioso. Sì papà. Sai cosa sarebbe fantastico? È un'intrata spettacolare! Filippino che si butta dal terzo piano in un vestito da Babbo Natale. Facciamo un minuto di silenzio, poi chi se la sente inizia con gli antipasti. Io sono incinta di lui! Fermatela, vi prego! A Natale la gente svalvola. Bastardo, merda! Gli ha benvenuto! Buona buona, eh! Lì, lì, lì! Sarà un'ecatombe! Gli ha benvenuto! Spurchio! Gli ha benvenuto! Gianni! Questo comincia io? Che meraviglioso Natale questo qui! Dai, eh! Siete pronti? Io mi metto a urlare fortissimo. Papà, perdonami, non resisto! Hai mangiato, hai giocato, ma ti bevi pure la grappa colato! Di ahorita vorresti che stasera non finisse mai, eh? Non è tutto perché la Sony vorrebbe dedicare dei vari spin-off ai personaggi secondari della storia come Little John, Will Scarlet, Marianne Loxley, Frate Tac e lo scelico di Nottingham per poi farli ritrovare tutti insieme in un film alla Vendicatori Marvel. Adesso voglio proprio sapere cosa ne pensate voi. Robin Hood come gli Avengers? Bah. Staremo a vedere gli sviluppi presto nei prossimi video. Ciao!